Salve a tutti ragazzi e bentornati da EcclesiPrayers qui è Dondi, oggi siamo tornati su TheMidnightMan Sì, so che avevo detto che horror non ne avrei fatti per una settimana però l'unica serie in corso in questo momento a Katmaio è giocarlo tutti in una volta in un giorno è un po' complicato Quindi cerco di bucare, no di bucare, di coprire alcuni buchi di serie E con cosa coprirli? Con MidnightMan, il suicidio personale Lo faremo in modelli da hard Non so fino a che punto io possa resistere Ma proveremo a almeno non prendere colpi Quindi iniziamo questo gioco Oh mio Dio Già è una tortura adesso, oh mio Dio Non ce la posso fare Ah come avete visto ho fatto una intro Il canale ha una propria intro adesso quindi Adesso io so che tu sei dietro quel ragazzo di porta Ma so che sei lì dentro No, dobbiamo guardare la web Dobbiamo guardare il gioco Ok andiamo Ok non andiamo Ma ancora non è passata neanche mezz'ora È impossibile Via 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 Oh, eccolo, porca troia! Impossibile. Impossibile, in modalità difficile, impossibile, quindi la faremo in modalità normale. Perchè apriamo? Non serve a nulla qui. Oddio, oddio. Vogliamo fare una cazzata? No, 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 non ce la faccio. Via, via, via da qua. Non laggare. Non mi laggare. Oddio. Oddio. La cosa non mi passa neanche mezz'ora. Wow, c'è essa. Mmm. Wow. Un gran bel vici col buco. Perfetto. Wow. Via da qui. Oddio. 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 Ed?" Cazzo, via da qui, merda! Si è acceso, no? Non ti è acceso! È drasticamente difficile! Ce la possiamo fare? Cosa è successo? Ok... Ma io potrei aspettare qui che si facciano le tele33 No, perché sennò... Ma io Dio... Farle in difficoltà difficile è impossibile Quindi... Non lo so Porca puttana! Mi si aprirà per un motivo Io ci vado No, voglio chiudere questa di porta Non ti chiudi? E noi ce ne andiamo Via da qui Come... Un buon cacasotto sa fare Mio Dio... È pesantissimo Beh, viene più facile giocarci dopo la prima volta Perché so bene o male cosa... Può fare lo stronzo Ma... È pesantissimo Non so comunque se continuerò a farlo Dipende... Da... Da ciò che... Che mi dite di fare Quindi... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Non so un cazzo di treatment di merda Ma io me ne vado da qua Ma io me ne vado da qua, ragazzi Ok... Oh... Oh... Ecco due Non posso neanche mangiare È passata la prima mezz'ora È passata la prima mezz'ora Io me ne sto qua a camperare Come... Un buon giocatore di Call of Duty sa fare Mio Dio... Accendi, riaccendi, 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 riaccendi... Grande... Ok... È entrato qualcuno Ma cazzo andiamo Mua ce ne saliamo Via... 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 Ok... 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 non laggare figlio di puttana sei un grande figlio di puttana luna potrei camperare perché da quel che so alle due succederebbe il finimondo tipo che ti stupra una cosa del genere ok però non annoiarvi accenditi accenditi ma sempre mi sta dietro il culo mi sta dietro il culo mi sta dietro il culo questo figlio di puttana mi sta dietro il culo accenditi cazzo accenditi quindi siamo tornati sul midnight man che lagga un po' però ok figlio di puttana figlio di puttana è pesantissimo come sembra ok ok perfetto torco di puttana sto sudando come nessuno in questo momento basta 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 io lo stoppo qua neanche oggi siamo riusciti a battere il midnight man vediamo dai commenti da mi piace da come mi sprognare da fare in un'altra parte da un don di più terrorizzato che mai ci si vedo al prossimo video mettete ovviamente mi piace un commento e iscrivetevi al canale ciao a tutti ciao a tutti